Sono molto felice di aver partecipato al primo workshop internazionale del progetto PENTRE EUROQUALIF, è un progetto molto importante. Credo che sia utilissimo condividere buone pratiche per la formazione sul restauro e recupero del patrimonio architettonico storico, un confronto fra regioni e il mio intervento è stato proprio su questo aspetto. E' importante condividere i diversi quadri delle qualifiche a livello europeo e anche regionale. La formazione va permettere a DÉSAPROMANDE di ottenere una qualifiche qualifiche e possibilità di emploi, quindi è molto enrichissimo di collaborare con i diversi partenari, e di poter cambiare, in ogni caso, su tutto ciò che conserva una priorità in termini di formazione professionale. Il contributo della scuola edile di Siena al progetto è particolarmente concentrato sull'esperienza del cantiere scuola, perché la scuola edile opera nel settore del restauro e del ripristino, facendo lavorare gli allievi su esperienze di cantiere reali. Quando mi ha fatto la proposta, ho detto immédiatmente sì. Io ho sapato prima che la restaurazione dei bati morti è qualcosa che impasse e che impasse la Grécia a un decret molto importante, perché il nostro settore principale fondamentale è il turismo e la promozione, soprattutto, di nostro patrimonio. È molto interessante per noi, dal punto di vista di IDEC, di avere questa esperienza. Siamo molto contenti, molto felici di essere a Parigi ancora, di lavorare ancora con Artemisia su questo progetto. che è per noi, per la nostra scuola, molto interessante, perché si occupa delle professioni legate al restauro e al recupero dei beni culturali. Sì, credo che è un più per i nostri amici, che nel futuro, non so come evoluono le carriere professionale, quindi se si decidi di prendere un lavoro o di s'expatriere, hanno la possibilità di praticare i loro bietti in altri paesi. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!